se voi non andate immediatamente a vedere il post che ho appena messo dopo che ho sporcato il divan nuovo di mia madre e il mio pigiama nuovo ma l'avete visto anche voi? what the f*** is a body? fatemi sapere secondo voi che cosa potrebbe essere io mi sono già fatta qualche idea ma non ve la spoilerò però sono curiosissima di sapere tutte le vostre supposizioni e nel frattempo save the date perché il 14 settembre ci sarà la liberazione bu felicitazioni Mh, mh, sì, sì, sì.